Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi iniziamo, cioè il Vangelo di oggi è proprio l'inizio del Vangelo di Matteo, che è un Vangelo molto particolare perché c'è una serie di nomi incredibili, e inizia così, versetto capitolo 1, versetto 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Ezrom, Ezrom generò Aram. Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Raccab, Boz generò Obed da Ruth, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo e si va avanti fino alla fine. Fino a che si dice Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni di Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. Una serie di nomi, quasi infinita, che quando leggi questo Vangelo di solito durante Messa sembra che sia una cosa noiosa, no? Innanzitutto vi mando questo messaggio da Argentera e sono molto felice di essere qui perché stavo per salire qui il 29 di agosto quando ho avuto l'incidente e poi non ci sono mai arrivato e questa è la prima volta che torno nella nostra casa dei campeggi. Allora però, torniamo al Vangelo, tutti questi nomi cosa ci dicono? Ci dicono che Dio entra nella storia e che casomai noi pensassimo che noi non siamo degni di Dio, non siamo degni della presenza di Dio perché la storia della nostra famiglia, noi, noi stessi, i nostri parenti, i nostri fratelli, le nostre sorelle sono poco di buono. Vabbè dai, esageriamo. Beh, in questo elenco ci sono degli assassini. Davide, Davide, il grande re Davide, ha ucciso, ha ucciso Uria. Non dobbiamo mai spaventarci. Dio viene veramente nella storia, nella vita che noi stiamo vivendo e non ha paura, non ha paura delle nostre fragilità e dei nostri limiti, non ha paura delle limitatezze, delle nostre storie, delle nostre famiglie. Per questo Matteo inizia questa lunga storia nella quale noi potremmo raccontare la storia di ognuno di questi nomi e ce n'è di tutti i colori, però c'è anche la disponibilità ad accogliere il regno di Dio e a provare a viverlo. Chiediamo con forza, ancora con coraggio, umiltà, ma grande fiducia perché se tu guardi la tua storia, guardi la storia della tua famiglia, guarda l'importante è che tu apra gli occhi perché lì Dio ha seminato qualcosa di grande. Di lì Dio è venuto e questo è molto bello. Le cose belle della giornata di ieri, ci siamo incontrati con il settore nostro dell'evangelizzazione dove c'è anche la pastorale giovanile con la pastorale vocazionale, la pastorale ragazze, la pastorale liturgica, l'ufficio missionario e insomma abbiamo cominciato a pensare alla quaresima e abbiamo cominciato a pensare che in questo tempo di pandemia non dobbiamo scegliere dei temi, dobbiamo spogliarci, dobbiamo vedere ciò che resiste, dobbiamo tornare all'essenziale. Questo è stato un bel incontro. E poi sono qui, sono tornato ad Arsentera e mi fa molto piacere a spalare qualche metro, no metro no, però a spalare un po' di neve ma è bello essere qui. Qualcuno mi ha salutato dalla Colombia, non ricordo più chi però è sempre curioso vedere quanto possa arrivare questo messaggio del Vangelo così lontano e quindi saluto chi ha scritto dalla Colombia. Ale, buona giornata, ciao!